Passione, sesso e gemiti durante la diretta televisiva, sarebbe quello che sarebbe accaduto in un reality show che sta andando in onda in questo periodo di tempo nella televisione della Serbia. Nel filmato si vedono le urla di piacere molto forti provenienti all'interno della cabina duccia, i due concorrenti poi consumano un rapporto, non riescono a controllare i forti spiriti. Gli altri concorrenti del reality si accorgo di tutto, si mettono ad ascoltare con gran curiosità la performance di Amanti Focosi, il video è arrivato su Youtube e sul web, dopo la diffusione delle notizie sarebbe si è sollevato un vero e proprio polverone, in molti hanno dedicato la grande volverità e le immagini troppo visibili di Natura Hot. Bene, grazie per l'ascolto, il video termina qua, un saluto, a presto.